Sì, è vicino, è quello, sono tutte spalle. No, no, che spalle, è tutto prima. La sera di mia cala, ma per favore, da dare, cosa? No, siamo ancora in uso, non so, 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 non so. Allora, proprio una delle perversioni della vita. Dunque, bene, riprendiamo il lavoro, levi il cappello, per favore. Allora, il famoso modello A2, dunque, allora, dicevo, tornando a noi, cosa c'è? Vomita, la capita dopo, ovviamente, è chiaro, è certo, allora, io non proseguo per non creare invidia ai maschi, cioè, allora, dicevo, Ricordatevi di una cosa, esiste un intimo e profondo legame tra la cultura e il divertimento, se quando iniziate a capirlo, iniziate a funzionare bene, perché altrimenti diventa la condanna a morte. Cioè, se uno supplisce, e ce ne sono, e ne conosco, e sono persone di valore, con la volontà, con l'impegno, tutte cose nobilissime, però ci deve essere una punta di libidine. Cioè, uno deve divertirsi, perché fondamentalmente la cultura ha una dimensione anche ludica. Chi vuole ragionare su questi temi segnala un bellissimo libro, libro storico, libro degli anni 30, di Johan Hoizinga, H. Uizinga, come l'amma Zinga, Hoizinga, Omo Ludens, l'uomo che si diverte, Omo Ludens, che è un capolavoro straordinario su questi temi. Bene, proseguiamo. L'asside di Sant'Abbondio, come vedete, in cima ha questa clamorosa immagine, qui lo vedete scorciato, il Cristo, la Madonna, il Battista, San Pietro, San Paolo, quindi ovviamente a rapporto con la Chiesa Romana, e poi qui dall'annunciazione alla sepoltura abbiamo il grande ciclo della vita di Cristo. Perché la sepoltura? Perché ovviamente la resurrezione è all'usa qui nella Catino. E qui vedete questa grande crocefissione che occupa lo spazio doppio sotto la monofora. È chiaro che già lo spazio doppio, cioè la crocefissione raffigurata più grossa, è un modello di matrice senese, dove c'è un politico senese dove la crocefissione allo spazio è più grande, è grande il doppio, la tavoletta delle tavolette, degli altri episodi della vita di Gesù. Forza! Maestà di Duccio di Boninsegna, il retro della maestà di Duccio, c'è la grande crocefissione al centro, ok? Ora, qui non potete vederlo questo oggettivamente, però la croce è proprio alla senese, quindi qui chiaramente è una ditta lombarda, la quale, presuntivamente Comasca, che però è fortemente ispirata dalla lezione senese via Avignone. Ok, via Avignone, Matteo, il vescovo di Como era legatissimo, Bonifacio Boccapaduli era legatissimo alla corte Avignone. Questo splendido ciclo è un grande modello per Como, qui una brutta foto, qui più da vicino ecco vedete la parte alta, c'è questa finissima serie di costolonature con immagini di santi e di profeti, e poi qui in cima c'è San Michele, San Michele vuol dire il legame con la morte, con l'aldilà, con il regno dei cieli, e quindi il Cristo risorto, e poi c'è la volta, che non è una pura decorazione, ma è parte integrante della semantica dell'affresco, cioè a dire il paradiso, il cielo stellato, il blu oltremarino e le stelline d'oro, con una valenza ovviamente simbolica, molto chiara. Qui alcuni episodi, così ve li mostro rapidamente, va tanto per darvi l'idea di questa bellissima annunciazione, qui la natività, e notate il voluto arcaismo, la grande madonna con il materassino sotto che è un modello squisitamente paleocristiano, però col tocco di realismo, però col mastellone dove la purificazione del bambino non avviene in un elegante calice di marmo, come nella tradizione iconografica bizantina, ma in un mastello, ui allora c'è anche Femme Buccaa, cioè chiaramente c'è questo gusto molto lombardo, no, di mantenersi fedeli ai grandi modelli iconografici, ma con delle sapide introduzioni, cazzo sapide le dice barata figo, delle sapide introduzioni di vita quotidiana. Ecco, potremmo andare avanti ovviamente l'adorazione dei magi, vi faccio notare anche qui la stella non cometa, cioè la stella a sei punte, e no loro non sono i tre dei magi, lui non è il cammello anche se sembra, ma no, e dicevo, allora, e vi faccio notare il grande trono, come nelle varie maestà che abbiamo visto, che non è semplicemente il luogo dove è seduta Maria, ma è il simbolo della onnipotenza divina, è il trono di El Shaddai, di Dio onnipotente, che è entrato, che ha messo incinta, che è il verbo che si è fatto carne, insomma, che è entrato nella fecondità di Maria. E va beh, qui le immagini di Erode, vi mostro un po' di più, è solo, ecco, tra l'altro un straordinario testimone del costume militare, cioè di come erano vestiti i soldati nel 1341, uno ce lo dà gli uomini d'arme, ce lo dà questa splendida e discretamente atroce immagine che naturalmente raffigura... Ohi, tu, cosa raffigura? Ecco, mia nonna, l'affresco! Quello che succederà a te tra poco, io sono quello col pugnale, quindi cos'è? Erode che uccide i maschi. Eh sì, ma come si chiama? La strage degli innocenti, la strage degli innocenti. Ecco, attenzione, guardate che i cartigli qui, scusate perché c'è la presentazione, c'è la scritta, no? Ic, erodes, occidit, pueros, cioè sono scritte esplicative, ovviamente in latino, in caratteri gotici, che spiegano l'episodio. Guardate che su questo può essere che quando voi eravate magari alle medie o alle superiori, vi hanno detto una tipica minchiata, cioè quella che, ah sì, nel Medioevo poverini erano tutti analfabeti e allora gli affreschi murali erano la Bibbia dei poveri, in modo che tu, Biblia pauperum, in modo che tutti potevano, no, vedere gli episodi e capire minchiate. Primo perché il tasso di alfabetismo era molto più alto di quello che abitualmente pensiamo. E poi era macchia di leopardo, cioè c'erano zone discretamente alfabetizzate, altre no. Secondo perché questo luogo era chiuso da una tramezzo e questo era il coro dei monaci, cioè questo era il luogo destinato alla comunità benedettina, per cui è chiaro che i monaci, persone colte, persone che passavano il giorno nello scrittorium a copiare manoscritti, sapevano perfettamente leggere e scrivere e quindi erano perfettamente in grado di leggere le scritte. Per cui siamo molto attenti a questa mitologia della Bibbia dei poveri. No, va bene, va bene, se non insisto, scusate perché ho poco tempo, però almeno questo, il battesimo, dove vi faccio notare una singolarità. Questa è l'iconografia paleocristiana, la troviamo ad esempio nei Battisteri di Ravenna, del Cristo totalmente nudo nell'acqua del Giordano, come Cristo era nudo nel Giordano, come era nudo sulla croce, eccetera. E è contrapposto ovviamente a Giovanni il Battista, che invece ha il vestito di peli di cammello, come vedete, reso in modo minuzioso. Bene, però per non mostrare la genitalità di Gesù, cosa si fa? Gli si mettono le mani incrociate sul pube. Ora, questa immagine cosa richiama? Richiama inevitabilmente un'altra immagine di Gesù. Dove troviamo l'immagine di Gesù con le mani sui genitali? In una celebre reliquia, celeberrima, conservata a Torino, la Sacra Sindone. Adesso, al di là delle riflessioni sulla autenticità o meno della Sindone, oggi chiaramente si è fatto tre birre, perché è più impante, già due risposte esatte, incredibili. Eh? E certo, ovviamente, non mi è completamente patocco, perfetto, perfetto. Allora, dicevo, mi raccomando meno Abrea, allora siamo in Varese, ci tengo ragioni di stile, di rispetto per il luogo, insomma, allora, dicevo, il... Detto questo, spirò. Dunque, la Sindone, però, attenzione, allora, si discute se sia autentico o no, io credo di sì. In ogni caso, era conosciuta nel XIV secolo, per cui è il modello sindonico che ha costituito il modello di questo affresco. Questo è interessante, perché è una testimonianza a contrario che la conoscevano. All'epoca, a metà Trecento, la Sindone era a Chambery, nella Saint-Chapelle del palazzo dei conti, poi duchi di Savoia, dove poi verrà nel Cinquecento trasferita a Torino, dove si trova attualmente nel Duomo. Bene, allora, e vi faccio di Giuda, Cristo flagellato, e qui appunto la splendida percepizione, vedete proprio questo legno duramente intagliato, ecco, e qui tra l'altro un dettaglio, vedete gli evangelisti con una figura, un modo, che poi sarà sconsigliato dal Concilio di Trento nel Cinquecento, e molti di queste immagini vengono fatte sparire, cioè gli evangelisti raffigurati come figure umane, ma con la testa del loro simbolo. Vabbè, Matteo la testa d'Angelo, d'accordo, Luca la testa di Toro, Giovanni d'Aquila, Marco di Leone, qui vedete, no, Giovanni e Marco, e va bene. E qui vedete appunto questa croce proprio tagliata, di cui dicevo, qui alcuni degli apostoli che sono nel registro inferiore, tra l'altro campiti da queste elegantissime colonnine gotiche, ecco, e poi questo è un seguace diretto del grande pittore, il maestro di Santa Bondio, l'anonimo, ovviamente maestro capo di una vasta ditta, è ovvio che quegli affreschi li hanno fatti almeno in 30, non è che va più uno, però il grande leader è lui, un suo allievo è il maestro dei Santi Cosma e Damiano. Chi di voi è stato nella nostra sede di Santa Bondio a Como dell'Insubria? Nessuno. Di questa sede fa parte la chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, diciamo che è una chiesa nell'area di Santa Bondio, nel cui presbiterio c'è questo bellissimo, purtroppo rovinatissimo affresco, che raffigura la Madonna col bambino, e Santa Bondio, Santa Pelagia, e qui questi due personaggi riccamente vestiti, sono vestiti da medici, sono i fratelli medici Cosma e Damiano, patroni della medicina, e quindi a cui la chiesa era dedicata. Bene. E poi un altro capolavoro dello stesso giro è il maestro di Castel San Pietro, che probabilmente è il maestro dei Santi Cosma e Damiano, e che esegue uno strepitoso ciclo di affreschi nella chiesa di Castel San Pietro, che è attualmente una frazione di Mendrisio, nel basso canton Ticino. Vi ricordo che gran parte del canton Ticino, fino al XIX secolo, era diocesi di Como, tranne le tre valli di Leventina, Blegno e Riviera, che erano invece diocesi di Milano, fino a San Gottardo, mentre poi nell'Ottocento nasce la diocesi di Lugano. Quindi vedete che qui... Ecco, non vado oltre. La cosa interessante è che il committente di Castel San Pietro, se ridete ancora, potete scegliere tra 50 frustate la lettura di un mio articolo. Tutti in genere scelgono le frustate perché soffrono meno. Dunque, allora, dicevo... Allora, dicevo... La cosa interessante è che il committente di questi tre cicli è la stessa persona. Il ciclo di Sant'Abono, il ciclo di Santi Cosme Damiano, il ciclo di Castel San Pietro è sempre frutto della committenza di Bonifacio Boccabadati, vescovo di Como, il quale si fa qui raffigurare, questo rilievo era in origine sulla facciata di Castel San Pietro, adesso è custodito all'interno, sopra vestito da vescovo, sotto colui che insegna. Vi ho detto che era stato insegnante alla scuola di Padova, quindi mi piace così fare, sta facendo quello che stiamo facendo noi. Cioè, è un dictator, un professore, che sta insegnando in un'università medievale. Non proseguire, ti prego. Così va bene, non di più. Ecco, allora, dicevo... Eh? Allora, dicevo, il dictator è seduto, ha, come vedete, un leggio girevole su cui c'è il testo, e poi ci sono due studenti invece seduti su scabelli che stanno prendendo nota. Ecco, questo è interessante, lo stesso vescovo poi farà un'altra lapide nell'allora collegiata di Lugano, quella che è l'attuale cattedrale di Lugano, quindi una presenza molto capillare. Un'altra sua statua c'è nel Duomo di Como, nella cattedrale di Como, quindi una presenza molto vasta, molto... Eccola qua. Questa è quella di Lugano, 1346, murata oggi in un pilone. in realtà questa statua non viene dal Duomo, in origine era nell'enorme palazzo del vescovo che è l'attuale municipio di Lugano. Questo immenso palazzo neoclassico aveva le dimensioni, alle fondamenta del palazzo trecentesco di Bonifacio. Ok, un altro grande genio di cui non sappiamo il nome è il maestro anonimo che affresca l'oratorio di Santa Maria dei Ghirli, Ghirli vuol dire semplicemente rondini, Santa Maria delle Rondini, a Campione d'Italia, Campione, come sapete, una piccola enclave italiana in territorio svizzero, e la chiesa conserva questo vastissimo ciclo di storie di San Giovanni il Battista, in parte modificate perché ci sono questi arconi con gli splendidi stucchi di Isidoro Bianchi del Seicento, quindi barocchi, che ornano la parte superiore. Ecco qui un particolare, vedete storie della Vergine, storie del Battista, anche qui questo sapido narrare tutto Lombardo, l'annuncio a Zaccaria, la visitazione, le ancelle che preparano la natività del Battista, e qui sotto la decapitazione del Battista, erodia che dà la testa a Salome, eccetera. Ecco, faccio notare in basso il ciclo dei mesi, questo è molto frequente nelle nostre terre, cioè che nella parte inferiore si raffigurasse il ciclo dei 12 mesi, lo troviamo un po' dappertutto. E qui un particolare invece bellissimo di un'altra parte dello stesso ciclo di Campione con i Santi Quattro Coronati, siccome i Santi Quattro Coronati sono i patroni delle attività di scultura, qui sono raffigurati mentre stanno scolpendo, questo sta scolpendo un capitello, questi stanno tagliando una trave, cioè ci dà una misura molto pratica, molto visiva, mentre questo è l'architetto in cattedra, che ha in mano una squadra, un compasso, insomma, c'è questa idea teorica e pratica della scultura. Questa straordinaria fioritura a Como nel 300. Allora, grazie a me, perché? Scusa, che è successo? Adesso qualcosa di spaventoso. Ah, ho capito, avevo messo qui assisi, va bene, non c'è problema, avevo rimesso un po' di assisi, ecco perché non la trovavo. salto spudoratamente, scusate solo un secondo, che eccoci qua, va bene, aspetta, sì, da qua, ecco questo ambiente, no, no, taglio un po', per ragioni di tempo, devo dire, detto tra noi, allora, detto tra noi, due miei articoli, o cento frustate, allora dicevo, frustate, 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 no, allora dicevo, una cosa importante, dunque, questa rivoluzione, che ha una sua forza a Como, e che negli anni 40, 50, si esprime in modo clamoroso, col maestro di Sant'Abbondio, che suoi allievi, ha poi una conseguenza, addirittura inattesa, che è la presenza di Giovanni, da Caverzasio, Caverzasio o Caverzaccio, è un paesino, al confine, diciamo nei pressi di Bizzarone, tanto da Bizzarone che a Giolo, tanto per avere un'idea, e da lì, e lì nasce questo personaggio, che probabilmente vive la sua, adolescenza, la sua giovinezza, prima a Mendrisio, e che poi si sposta a Milano, e da Milano a Firenze, già a Milano, lo chiamano Giovanni da Como, a Firenze, lo chiamano Giovanni da Milano, beh, scusate, questa è un'esperienza ovvia, ha capito a tutti voi, no, se magari abitate in una piccola località, dice dove abiti, e dice vicino a Varese, vicino a Gallarate, modo approssimativo, e ora, è chiaro che, per a Milano, dire Como è un riferimento, caversaccio, e tu, e lei mi suminga, allora, cioè, è chiaro, invece, a Firenze, o dove è Milano? Cioè, già Milano è difficile, è Como, figuriamoci, quindi è chiaro che, a Firenze, lui è Giovanni da Milano, e Giovanni da Milano, sarà il grande, riempitore, del vuoto, lasciato dallo sterminio, dei discepoli di Giotto, a causa della grande peste, di metà trecento, e negli anni, fine 50, 60, primi 70 del trecento, sarà, trionfamente, presente a Firenze. Questa è l'unica opera, in Lombardia, si tratta, del frammento di affresco, oggi trasportato, all'interno, del grande, con la chiesetta, di Santa Maria delle Grazie, che fa parte, del grande complesso, di San Giovanni, a Mendrisio, visitabile, perché è la sede, dei musei civici, di Mendrisio, Svizzera, e il, dicevo, l'affresco, raffigura la Madonna, col bambino, tra San Giovanni Battista, e Santa Maria Maddalena, ovviamente, Santa Maria Maddalena, e quella con la barba. L'affresco, per quanto rovinato, e trasportato, quindi, trasporto a massello, cioè, con tutto il muro dietro, è però notevole, è un, insomma, già, segno di un artista maturo, alla vigilia, del trasferimento a Firenze. A Firenze, il grande capolavoro, è il politico, di Ogni Santi, Ogni Santi, era una chiesa, dei Vallombrosani, e Vallombrosani, sono un ramo, dei Benedettini, fondati da San Giovanni, Gualberto, presso l'eremo, di Vallombrosa, Vallombrosani, e questo signore, infatti, vestito di bianco, è San Giovanni, Gualberto, è uno strepitoso, politico, come vedete addirittura, Siamo lieti del fatto che le cose siano sulla scrivania, però se spegne l'audio è meglio, dicevo, dicevo, sì, ma succede anche di peggio, no, una volta che avevo finito un esame, c'era una, oh, quello stronzo, ma tu un mazzo così, no, cioè, non aveva colto il dettaglio che era acceso al micro, perché arriva lo stronzo, ringrazia, Allora, dicevo, ma, no, sono strepitosi questi fuori campo, no, state molto attenti al microfono quando usate internet, dunque, dicevo, dicevo, la doppia predella con un ciclo complesso delle storie di Gesù e delle storie di San Giovanni Gualberto e delle storie di San Bartolomeo, quindi c'è un ciclo piuttosto complicato che spiega la doppia predella addirittura per questo monumentale aggeggio che stava richiedendo i Santi, adesso sta agli uffizi, e, beh, questo non deve fare, questo, ecco, questi sono frammenti di altri politici che Giovanni realizza tra Firenze e Prato in quegli anni, questa è la pala, questo è un frammento strepitoso di un politico che per una galleria dell'Accademia di, Firenze con il compianto del Cristo morto e il vero grande capolavoro è la cappella Rinuccini, che è semplicemente la famiglia proprietaria, in Santa Croce a Firenze, nel Tempio del Giottismo, dove Giotto stesso aveva frescato le cappelle Barbie e Peruzzi, Giovanni da Milano esegue questo strepitoso ciclo dedicato a Sant'Anna e a San Gioacchino, i genitori della Vergine, cappella loro dedicata, cappella Rinuccini. Questo episodio è l'apparizione dell'angelo a Gioacchino e l'incontro alla Porta Aurea, è una leggenda medievale, secondo la quale l'anziano Gioacchino e l'anziana Anna erano senza figli, Gioacchino era sacerdote e veniva schernito, addirittura viene cacciato dal Tempio per la sua sterilità, che per un uomo ebreo e per una donna ebrea è la massima delle maledizioni, e si rifugia in campagna tra i pastori. Lì un angelo lo raggiunge e gli dice presto vai a Gerusalemme da tua moglie, e contemporaneamente un altro angelo fa un omologo annuncio ad Anna. I due si incontrano alla Porta Aurea, che è una porta ai piedi del Tempio di Gerusalemme, chiara la valenza simbolica porta d'oro per tutti i valori, e Gioacchino bacia la moglie, secondo la tradizione questo bacio miracoloso mette incinta Anna, evitate di baciare la vostra partner, quattro gemelli non bisogna. No, diciamo, non funziona così. Dunque, diceva, no, e voi capite che tutto questo è il fenomeno costante nel Medioevo della verginizzazione di Maria, cioè siccome Maria è vergine, allora a tutti i costi ciò che c'entra col sesso le viene allontanato. Cioè Giuseppe, che era un ragazzotto, viene trasformato dalle leggende medievali in un vecchione, già vedo di prime nozze, così anche volendo ormai non c'era più, come dire, l'occasione e la materia. E, no, no, eh, dall'altro... Eh, ragazzi, è duro, ma l'altro pausa prima o poi toccherà a tutti noi, insomma. Allora, e dall'altro lato, in alcuni casi, anzi anche precoce, no, dicevo, ma, in generale, ma, ma dall'altro lato, anche l'immagine che addirittura il concepimento di Maria deve essere lontano dal sesso, cioè mica una normale trombata, ma bacio, bacio un bacio, incinta, e sì, va bene, ok, non toccarmi l'ombelico. Però, detto questo, no, e fa parte, chiaramente, di una politica, no, omogenea di veicolazione leggendaria. E allora, noi a sinistra vediamo, cioè, al centro l'angelo, l'apparizione a Gioacchino, nel Tre Pastori, e a destra, appunto, l'incontro alla Porta Aurea. Faccio notare una cosa, come il baricentro, anche geometrico, dell'episodio, non è Gioacchino o Anna, ma è il pastore. È questo pastore che ha un ruolo del tutto secondario nella narrazione. Vabbè, è chiaro che c'erano tra i pastori, c'erano dei pastori, bella scoperta, ma, in realtà, è un tocco di potente realismo. Questo pastore che ha il mantello col cappuccio, questo pastore che ha la veste corta, questo pastore che ha gli zoccoloni, cioè, è un'immagine potentemente realistica, come lo è il suo cane da guardia, mentre questo signore qua, d'angolo, altri non è che il signor Rinuccini, che il signor Francesco Rinuccini, che ha spagato l'operazione. Quindi un'arte profondamente diversa da quella giottesca. Guardate il rapporto con lo spazio. Le compagne di Anna sfiorano l'arco della porta. Non c'è uno spazio realistico in proporzione, è uno spazio simbolico. I tocchi potenti di vita quotidiana. Le pecole, il cane. Questo è il modello innovativo, antigiottesco per molti versi, che Giovanni introduce. Qui in particolare della nascita della Vergine, è anche questa splendida raffigurazione del letto di Anna, della vita comune, addirittura il tipo di tovaglia, che in effetti è un tipo di tovaglia bianca-azzura, che tuttora si fabbrica a Firenze. È un colpo di vita. Vuol dire che Giovanni non si limita a riproporre modelli lombardi. Giovanni arriva a Firenze e si guarda intorno, e quindi riproduce, sì, elementi di vita quotidiana, ma di vita quotidiana fiorentina. Non fai fantozzi, puoi masticare tranquillamente. Tu mancia polpetta. Allora, ecco, questo invece è un resto di un meraviglioso politico di Giovanni da Milano, purtroppo fatto a pezzi. Questa è l'anta centrale con il Cristo in trono sull'ennesima sella applicatilis, la vedete, e gli angeli, che per nostra fortuna si trova attualmente alla Pinacoteca di Brera a Milano. Ecco, e quindi questa arte fortemente innovativa di Giovanni, che segna pesantemente il dopo di Firenze, ovviamente qui il discorso ci porterebbe molto lontano, ho tranciato il mondo bolognese di Vitale degli Equi e quello bolognese-veneto di Tommaso da Modena, ho tranciato tante altre cose, voglio però almeno farvi un cenno ad Andrea di Buonaiuto o Andrea da Firenze, che dopo Giovanni da Milano in qualche modo ne ripete i modi, qui siamo negli anni 80 ormai del 300, in una clamorosa rappresentazione, quello che si chiama comunemente il cappellone degli spagnoli, non perché gli spagnoli fossero praticamente dotati, ma perché, no, ma semplicemente no, perché, no, ve lo spiego, perché nel 500 il Gran Duca Cosimo I si pose la Nora di Toledo, una lettore della spagnola, si porta dietro degli spagnoli che veniva, e la sua guardia del corpo privata, che andavano a sentir messa in latino, ma con la predica in spagnolo, in questo ambiente, per quello che dal 500 si chiama il cappellone degli spagnoli. In realtà è un ambiente del grande complesso domenicano di Santa Maria Novella, ed è precisamente l'aula capitolare, la sala capitolare dove i frati domenicani si riunivano in capitolo. La raffigurazione è il trionfo dell'ordine domenicano, qui vedete clamoroso, il Cristo apocalittico, qui i beati, la porta del paradiso, domenico con i suoi santi, le virtù, e la predicazione dei domenicani, e qui la rappresentazione dei potenti della terra, il Papa, l'imperatore, i re, eccetera, e questa chiesa, che raffigura la chiesa, istituzione, che è interessantissimo perché è il primo progetto completo che noi abbiamo del Duomo di Firenze. Questo è il progetto che viene ripreso dopo la morte di Arnolfo di Cambio, e in cui già pensano di fare la grande cupola, quella cupola che solo negli anni 20-30 del Quattrocento e in forma diversa, verrà realizzata da Filippo Brunelleschi, uno delle pietre miliare dell'antitettura dell'umanesimo, ma che già qui era in mente. Tra l'altro, qui tra le varie figurine, qui, qui, c'è il ritratto di Giovanni Boccaccio, è il ritratto frontale, la classica, di Giovanni Boccaccio, mi piace mostrarvelo. Ecco, vabbè, torniamo a Milano, a Milano, dove a un certo punto Giovanni rientra, torna a casa, Alessi, Giovanni rientra e dà origine a tutto un filone tardo-trecentesco di pittura milanese di altissimo livello di cui purtroppo non conosciamo gli autori. Qui fondamentalmente ci sono due tesi. Una tesi che fondamentalmente sia Giovanni da Milano, cioè è lui ormai vecchio, ormai con un ruolo sempre più, diciamo, di coordinamento, sempre meno di diretta esecuzione, ma sempre lui a tenere in pugno la situazione. L'altra ipotesi, no, sono artisti che si muovono sul grande modello di Giovanni, ma evidentemente sono ormai autonomi. Questo è il frammento della bellissima crocefissione della chiesa di San Marco a Milano. Come vedete una crocefissione volutamente un po' incongrua perché accanto ai personaggi ovvi, Gesù, gli angeli, la Madonna, la Maddalena, San Giovanni, c'è Sant'Agostino inginocchiato e si spiega San Marco era una delle grandi chiese agostiniane di Milano. Qui è in San Lorenzo la tomba Robbiani, una tomba all'antica con l'arco, con il sarcofago e qui questo bellissimo a fresco la Madonna col bambino San Lorenzo e Sant'Ambrogio la tomba Robbiani si trova appunto in San Lorenzo e anche qui ambito di Giovanni da Milano e poi i capolavori questo l'ho già citato è il ciclo delle storie di Cristo vediamo se vi ricordate dove sta sta roba io ho già mostrato questa immagine ho anche già chiesto chi erano questi due mi avete detto Adamo e Eva dove sta sta roba? Sì in una chiesa grazie indicazione corretta ma ce ne sono alcuni milioni al mondo quindi un po' generica aggiungiamo anche che sta sulla terra non è una fresco su Marte ma no dai dove sta? nella cosiddetta abbazia dei Santi Pietro e Paolo di Viboldone ecco e dopo proprio da questi grandi paradigmi la fresco di San Marco la tomba Robbiani la ciclo di Viboldone iniziano quelli che sono i cosiddetti oratori viscontei detti viscontei non perché centrassero i visconti ma perché sono del periodo visconteo di Tardo 300 sul modello di Giovanni da Milano il più antico tra 1367 è l'oratorio di Santo Stefano a Lentate sul Seveso e come vedete come sempre accade c'è questo clamoroso affrescone della crocefissione che polarizza la scena in questi oratori è presente una personalità leader che man mano si fa strada e diventa in qualche modo l'erede di Giovanni da Milano che è a novelo da imbonate a novelo da imbonate qui a un particolare i committenti sono la famiglia Porro il conte Stefano Porro è questo signore con sua moglie i suoi figli e le sue figlie e questa signora è la nonna del cardinale è la mamma scusatemi del cardinale Branda Castiglioni fondatore della città ideale di Castiglione Olona a me fa sempre un po' impressione questo affresco perché questi tre ragazzi moriranno tra i 18 e i 19 anni sul patibolo perché coinvolti in una congiura contro i viesconti allora da questa parte abbiamo Santo Stefano che riceve in dono dalla famiglia Porro il modellino della chiesa dall'altra parte abbiamo San Giorgio col Drago implacabile qui la volta ecco questo l'altro a brevissima distanza oggi è una frazione di lentate l'oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina a Mocchirolo Mocchirolo è una cascina sostanzialmente con questo piccolo oratorio i cui affreschi però sono stati strappati e sono oggi alla Pinacoteca di Brera andate a Brera a sala 1 sono proprio gli affreschi di Mocchirolo questa è un'operazione che adesso non si tende a non fare più oggi si strappano gli affreschi solo se l'edificio su cui si trovano sta per crollare voglio dire all'epoca l'epoca vuol dire anni 50 si usava ancora a fare con scopi di mostrarle al pubblico in un museo e questo è il grande ciclo di Mocchirolo chiaramente la stessa scuola Giovanni da Milano novello da Ibonate and Company qui il bellissimo volto di Gesù che come vedete deriva palesemente da quale modello ve l'ho mostrato oggi l'origine è paleocristiana e bizantina e siamo d'accordo ma io oggi vi ho mostrato qualcosa di molto più vicino dove il Cristo è raffigurato così frontale con l'aureola a croce eccetera 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 quella è la prima immagine una delle prime immagini che ho mostrato stamattina ci siete la sinopia del Cristo di Simone Martini nel lato della cattedrale di Avignone quella roba lì occhio alle date trent'anni dopo ok e qui è il particolare bellissimo purtroppo anche qui lo sfondo ciao è il matrimonio mistico di Santa Caterina d'Alessandria e Sant'Ambrogio in cattedra che con la sferza caccia agli eretici quindi Ambrogio e Caterina i due dedicatari della chiesa vedete questo bellissimo trono alla gotica questa cattedra di Ambrogio ancora una volta Ambrogio docente e questa iconografia di Ambrogio che con la sua parola visualizzata dalla sferza caccia agli eretici diventerà poi strumentalizzata dai visconti e diventerà l'immagine di Ambrogio che appare con la sferza a cavallo nella battaglia di Parabiago per dare la vittoria 1339 per dare la vittoria ai visconti è un uso chiaramente politico il terzo dei grandi oratori l'unico che si può dire davvero visconteo perché compare la vipera la tema dei visconti è l'oratorio di Albizzate vicino a Varese come sapete quindi Lentate Mocchirolo Albizzate Lentate e Mocchirolo sono negli anni 60 Albizzate è anni 70 fino anni 70 del 300 simile come impostazione è sempre la stessa grande scuola che si declina in questi oratori è chiaro che ce n'erano molti di più noi purtroppo siamo sempre costretti come diceva quello là a fare la storia dei ruderi della storia dell'arte cioè siamo costretti a studiare inevitabilmente ciò che vediamo ciò che c'è ancora che possiamo esaminare ma è chiaro che molto più numerosi erano questi oratori questo è uno degli episodi con la cosa era figura che schiga oh il martirio di Giovanni Battista e la sua testa portata erode erodia di Salome eccolo l'ultimo della è qui particolare l'ultimo della premiata serie è l'oratorio di Solaro zona groana nord Milano l'oratorio di Solaro Sant'Ambrogio di Solaro con un ciclo ormai alla fine del 300 1390 95 stessa storia tanto vi faccio notare la rarità ce ne sono pochi ma ce ne erano tanti dell'altare dipinto dell'altare dipinto a motivi geometrici ce n'è qualcuno in giro non so San Pietro di Gemonio Santa Croce di Schian di Gazzada un po' in giro però sostanzialmente ecco e qui questa è la controfacciata con questo raro affresco molto raro il soggetto cioè qui Adamo e Deva che si pentono del peccato originale sono ancora nudi qui Dio che gli confeziona le tuniche e qui Adamo e Deva con le tuniche che stanno zappando il terreno la maledizione di Dio all'uomo dopo il peccato originale no col sudore della fronte trarrai cibo dalla terra e nella terra tornerai perché polvere sei e in polvere ritornerai ecco l'ultimissimo ormai all'inizio del quattrocento eco di questa cultura ormai in una chiave molto tarda molto rielaborata è l'affresco di Santa Maria in Silvis cioè nel bosco presso Locarno nell'attuale canton Ticino con queste elegantissime figure che come voi vedete più che alla Bibbia rispondono alla cultura di corte guardate qui questa immagine di San Vittore scusate San Vittore di Sant'Alessandro pardon di Sant'Alessandro che ha la barbetta a punta il pizzetto eccetera ma anche tutta la veste la sopraveste che sono tipiche di un cortigiano visconteo di quel di quel tempo e quel tempo è il punto in cui ci ricongiungiamo con la grande rivoluzione della scultura la precoce diffusione a Milano nel 300 della scultura campionese la grande fase toscana voluta da Azzone Visconti e dominata da Giovanni di Balduccio da Pisa il ritorno grandioso dei campionesi Bonino da campione la tomba di Bernabò Visconti in San Giovanni in Conca che è lo stesso momento di queste esperienze pittoriche il periodo cioè di Bernabò e poi di suo nipote il grande Gian Galeazzo primo duca di Milano Bernabò come suo fratello Galeazzo secondo erano stati grandi costruttori di castelli uno dei più importanti castelli a guardia dell'asse immediatamente a sud di Milano è il castello di Pandino oggi provincia di Cremona un castello costruito da Bernabò Visconti come vedete molto rigoroso era un castello quadrangolare con quattro torri questa è ricostruita a fine quattrocento e all'interno un gigantesco ciclo geometrico dove la vipera dei Visconti si alterna a questi finti rosoni e a queste rappresentazioni geometriche come se fossero marmi ora questo modello noi sappiamo la fonte ed è stato inventato negli anni trenta da Giotto per la corte vecchia cioè la residenza milanese dei Visconti purtroppo ce ne avanzano miserabili frammenti poi viene ripreso lungo tutto il Trecento ci sono dei resti cospicui di questi anni di decori simili nel castello Visconteo di Pavia viene ripreso qui negli anni 60-70 del Trecento e ancora verrà ripreso nel Quattrocento e potete vederlo molto facilmente nel palazzo Castiglioni di Monteruzzo a Castiglione Olona questo modello geometrico strepitoso bellissimo perché poi c'è i rosoncini che ti inventano una nuova spazialità è all'origine di quella architettura dipinta di quel quadraturismo che è tipico della Lombardia ho mostrato volutamente questa grande genesi scusate un attimo solo fatemi capire una cosa dunque questo era il 19 ecco sì molto random molto al volo vi faccio vedere alcune cose di altri poli dell'arte italiana del Trecento uno di questi poli è sicuramente Padova dove Giotto aveva introdotto la devastante novità della cappella di Scrovegna inizio Trecento uno dei più grandi seguaci padovani di Giotto l'abbiamo già nominato parlando di Viboldone è Giusto dei Menabuoi Giusto esegue questo gigantesco è veramente un ettaro di dipinti ciclo di storie di Cristo che orna il Battistero di Padova edificio molto più antico ovviamente ma che viene completamente affrescato da Giusto negli anni 40 del Trecento qui vedete questa serie azione di nove storie di Cristo Natività Adorazione dei Magi Presentazione al Tempio Vocazione di Pietro e Andrea come si chiama Miracolo dei Fanciulli Nozze di Cana Orazione del Gezema di Bacio di Giuda Processo al Sinedrio e ecco questo robusto saper narrare di giusto che è clamoroso qui nell'episodio delle Nozze di Cana dove vedete tutti i particolari gustosi dalle brocche ai cani alla tavola imbandita e questa geniale strutturazione perché tu hai qui Gesù e qui la Madonna che sono i due protagonisti a crearti una dialettica questa è la volta una De Battistero la cupola una cupola chiaramente neobizzantina come sapore addirittura con delle forme arcaiche come la Madonna orante con le braccia alzate secondo il modello bizantino però evidentemente con un fare moderno strepitoso qui poi ci sono le storie della Genesi lungo tutto il tamburo del Tiburio della cupola gli evangelisti negli angoli e poi le pareti questi grandi lunettoni con le storie di Cristo di cui vi ho vi ho detto questi sono sempre sono le cappelle affrescate da da Giusto de Menabuoi in quel luogo nodale della Padova del Trecento che è ovviamente la grande basilica che è santo il santo venerato a Padova eh Sant'Antonio di Padova eh la grande basilica che racchiude il corpo di Sant'Antonio e questa come vedete no questi sono tutti francescani qui c'è Francesco qui c'è Antonio qui c'è Ludovico di Tolosa è chiaro ecco salto altre cose un altro grande pittore padovano più arcaico è Guariento Guariento da Padova a cui si deve questo stranissimo ciclo di tavolette che raffigurano gli angeli le corti angeliche che viene dal palazzo dalla cappella dei da Carrara i Carraresi signori di Padova e come vedete è di gusto dichiaratamente neobizzantino c'è proprio un uso quasi ostentatamente arcaico nell'arte nell'arte di Guariento questi sono gli affreschi sempre di Guariento nella cappella di San Giorgio che è un annesso della basilica di Padova e non posso non citare questo strepitoso particolare che è un ritratto di Francesco Petrarca negli ultimi anni Petrarca si era ritirato a Padova ospite dei da Carrara si era comprato una casetta sui colli euganei l'arca Arquat l'odierna Arquat Petrarca e lì aveva trascorso gli ultimissimi anni della sua lunga vita ed era morto nel 1374 tuttora il corpo di Petrarca ripose in un'arca marmorea nella piazza di Arquat ecco questa idea del umanista che ha bisogno di un luogo isolato dove dedicarsi all'ozium che non è l'ozio cioè voi in canotta che vi grattate gli zebedei bevendo birra davanti all'atelo al computer ma è l'ozium dell'umanista che stando da solo riflette non sono mai meno solo di quando sono solo diceva Cicerone e così fa Petrarca Petrarca gli ultimi anni li passa ad Arquat e viene raffigurato ormai anziano Petrarca muore a 70 anni che per l'epoca 300 è una data insomma importante viene raffigurato appunto qui in San Giorgio ecco un altro salto volutamente da alcuni pezzi un altro polo curioso del 300 è Rimini Rimini dove la signoria dei Malatesta sta ancora faticando a manifestarsi ma dove già ci sono dei grandi pittori questo è il maestro del giudizio un artista chiaramente ispirato da Giotto se voi guardate questi angeli di profilo sono chiaramente dei calchi dagli scrovegni ma con una sua vigoria rappresentativa che aveva fatto questo bellissimo giudizio universale nella chiesa di Sant'Agostino purtroppo strappato quando già era ridotta una larva e qui vedete i pezzi ricomposti al Museo di Rimini e che invece in Sant'Agostino ci lascia la cappella di San Giovanni con questi bellissimi affreschi qui è Giovanni che risuscita una fanciulla vedete anche qui questa descrizione così gustosa così sapida di una città medievale e poi c'è questo gruppo di artisti Pietro da Rimini Giuliano da Rimini eccetera e questo genio che non sappiamo bene chi sia se è o no Pietro da Rimini che è l'autore degli affreschi della chiesa di San Pietro in Silvis nel bosco a Bagnacavallo in Romagna e fuori fuori Rimini fuori dall'area romagnola il capolavoro dei riminesi è il cappellone anche qui in senso buono di San Nicola da Tolentino a Tolentino come voi sapete una città importante delle Marche è Tolentino c'era vissuto questo grande santo Agostiniano San Nicola questa c'è la basilica lui dedicata di fianco c'è questa grande cappella in cui il santo è sepolto qui intravedete la tomba e la statua e all'intorno c'è un vastissimo ciclo di storie di Gesù di Maria e di San Nicola che copre tutta la cappella intravedete i padri della chiesa e gli evangelisti sulla volta che è il capolavoro della scuola riminese quindi le grandi operazioni a Rimini a Verucchio a Bagnacavallo cioè in Romagna ma ma soprattutto il grande ciclo di Tolentino ecco l'ultima operazione è invece una grande storica abbazia italiana l'abbazia di Pomposa a breve distanza da Ravenna la pineta di classe poi c'è Pomposa dove dove sempre i riminesi affrescano questo vasto ciclo e qui è la bellissima immagine di Cristo in trono tra la Madonna il Battista San Benedetto e un altro santo benedettino che probabilmente è il fondatore dell'abbazia di Pomposa e va bene mentre a Bologna che sì è vicino alla Romagna fantastica le tue adenoide è veramente belle non parliamo del duodeno allora dicevo allora dicevo questo è niente quando comincia a masticare canne palustri è il problema di Popotami allora dicevo dicevo la Bologna che mi ricordo non è più Romagna è Emilia cioè le due la regione Emilia-Romagna congloba in sé due realtà molto diverse l'Emilia-Romagna ora mi ricordo che la Romagna come dice il nome cosa vuol dire Romagna vuol dire terra dei Romani è impregnata di cultura bizantina l'Emilia è impregnata di cultura lungovata cioè sono veramente due mondi tra l'altro non è banale noi questo oggi lo vediamo la cultura del raviolo contro la cultura della lasagna cioè ci sono dei modelli gastronomici che tuttora dimostrano la differenza culturale perché la gastronomia è per definizione una scienza conservatrice cioè una scienza che mantiene dei modelli gastronomici per molti secoli evidentemente tuttora esiste una cucina emiliana una cucina romagnola che sono obiettivamente lo Sturzaprit no il Sturzapriti cosa emiliana i Garganelli sono cosa romagnola sono modelli diversi i Garganelli sapete cosa sono i Garganelli no? allora i Garganelli in brodo secondo l'uso romagnolo sono un piatto che viene descritto da un da Paolo il Silenziario che era un vignitario di corte bizantina nel VI secolo vuol dire che minimo 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 hanno 1400 anni di storia ti spiego e sto parlando di un piatto tuttora diciamo in Romagna non ho difficoltà a ristorante a trovare i Garganelli per dire di cui sono praticamente ghiotto io sono praticamente ghiotto di tutto ma questo è un altro problema va bene però si mangia buono non si mangia mangiamolo lo stesso no allora dicevo dicevo sono notoriamente onnivoro allora il a Bologna Emilia fiorisce uno stranissimo personaggio vitale di nome vitale un santo molto venerato a Bologna degli equi solo che degli equi non è il cognome è il soprannome vuol dire vitale dei cavalli perché il modo in cui lui rappresenta i cavalli colpisce l'immaginazione dei suoi contemporanei vitale da Bologna vitale degli equi è l'autore di questa strepitosa tavoletta grande così non è che sia un gigante tempera ovviamente su tavola che raffigura San Giorgio e la principessa vi faccio notare lo scatenato dinamismo del santo ma più ancora lo scarto del cavallo che è veramente strepitoso e ci spiega la fama di pittore dei cavalli che si era fatta già vivente vitale e che si esprime in queste forme scatenate uno dei grandi allievi di vitale è Tommaso da Modena il quale pur nato in Emilia pur nato appunto a Modena lavora prevalentemente in Veneto e lascia la sua opera maggiore a Treviso Treviso era la capitale dello Stato fondato dalla famiglia dei Dacamino e vai con le adenoidi dei Dacamino è inutile sei in asse il problema è semplicemente visivo è ovvio sei frontale allora dicevo i Dacamino che creano una splendida corte dove tra l'altro si leggono i poemi cavallereschi dove tra l'altro ha origine quella curiosa letteratura che traduce i cicli cavallereschi medievali in uno strano linguaggio metà francese e metà veneto la famosa letteratura franco-veneta che è uno dei più interessanti casi di mescidazione anche linguistica del Trecento ora il famoso ciclo di Sant'Orsola realizzato da Tommaso da Modena nella chiesa di Sant'Orsola a Modena oggi ai musei civici è il suo capolavoro l'altro grande capolavoro è l'aula capitolare di San Nicolò che era la grande chiesa dei dominicani di Treviso dove come vedete sono rappresentati i dottori dominicani i santi dottori ognuno con un cartiglio che riporta un brano delle sue opere famosissimo questo è il più famoso ritratto di Sant'Alberto Magno l'iniziatore della scolastica il maestro di Tommaso d'Aquino Alberto di Bostet detto Magno domenicano che però era stato anche arcivescomo di Colonia e quindi come vedete ha in testa la mitria episcopale ecco notate una cosa vi prego ricordatevela questi scranni su cui sono seduti a scrivere i dottori cosa hanno sotto i libri no hanno sotto i libri questo è un modello che verrà ripreso ampiamente dalla pittura fiamminga ed è un modello che attraverso la pittura fiamminga rimbalzerà Castiglione Olona nel Battistero con gli affreschi degli anni 30 del 400 di Masolino da Panicale Fiorentino di origine ma con forti legami col mondo fiammingo attivo in Lombardia nella città ideale nella prima città ideale del mondo che è appunto Castiglione Olona ora qui Giovanni da Milano l'ho già mostrato era solo per dirvi queste vicende quindi il mondo romagnolo con la sua propagine marchigiana il mondo bolognese il mondo trevigiano emiliano trevigiano più correttamente e poi appunto ho fatto all'inverso ma non cambia nulla ovviamente Giovanni Giovanni il grande Giovanni da Milano scusa qui interrompi presentazione no 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 scusate fine presentazione scusate questo è il numero 19 giusto sì 20 sì ok ecco e allora ma fatemi capire scusate solo una cosa sì ok perfetto dobbiamo affrontare un tema che io trovo sinceramente affascinante che è il tema delle grandi corti tardogottiche del secondo 300 e del primo 400 che è il penultimo argomento di cui ci occuperemo perché poi proprio in queste corti in alcune di queste corti fiorisce l'arte fiamminga alle cui origini in particolare al quello che forse è uno dei più grandi artisti della storia dell'umanità cioè Jan van Eyck noi dedicheremo l'ultima parte dell'ultima lezione ora diciamo subito che il tardogotico è pluricentrico non c'è un centro un primo grande mondo è il mondo della corte francese del tardogotico trecento di questi grandi personaggi Giovanni duca di Berri Filippo duca di Borgogna i Luigi Carlo prima e poi Luigi duchi di Orléans che creano altrettante corti e una delle prime operazioni clamorosa è l'operazione che i fratelli dell'Imbur dell'Imbur è semplicemente una determinazione geografica il Limbur è una regione del Belgio orientale i fratelli dell'Imbur cioè dell'Imbur che eseguono il manoscritto delle ore del duca di Berri con la Y finale e le ore del duca di Berri all'inizio hanno un calendario strepitoso che in alto ha i simboli delle costellazioni e dei segni astronomici dei simboli astronomici del tempo in basso ha queste meravigliose raffigurazioni delle attività agricole ma anche dei castelli molto idealizzati di proprietà del duca di Berri allora all'inizio del 400 vedete questi castelli da sogno questi castelli da sogno questi castelli ideali che sono il luogo di questi corti un mondo che sogna ancora gli ideali cavallereschi questi pensano ancora di essere Re Artù Carlo Magno Rolando Lancillotto no ma si chiamano davvero così si scambiano attributi si scambiano soprannomi di cavaliere della tavola rotonda sul serio ok e che vivono in questo mondo trassognato raffinatissimo e uno degli esempi è la corte di Bruges in corte di Berri in Francia dove Giovanni il duca di Berri ha questa corte elegantissima un cui prodotto è appunto le ore del duca di Berri oggi al Museo Condé di Chantilly ma che che sono provenienti dalla sua corte ecco questi arazzi elegantissimi è il momento in cui la città di Arras Arras oggi in Belgio inizia a produrre quelli che si chiamano tappezzerie di Arras cioè arazzi giusto appunto arazzi vuol dire fatto ad Arras queste arazzi che come vedete hanno temi di amor cortese questo è il ciclo di un arazzo prezioso oggi a Parigi oi da casa non si vedono le immagini ditemelo però non è che posso sognarmelo aspetta un attimo e il fatto è che quando faccio aspetta aspetta un attimo facciamo le cose per bene dunque adesso voi vedete lo schermo condiviso cioè con i volchi no ah fantastico allora facciamo condividi contenuto adesso vedete lo schermo sì bene allora adesso riaccendo un attimo solo il dunque questo è da chiavetta quindi facciamo pure da oh signore qua ok qui Kingston Sam 20 erano mi pare adesso vedete la miniatura sì bene questo è Très richeur duque Jean de Berry cioè le ricchissime ore mignate del duca Giovanni di Berry questo è la razza di cui stavo parlando che raffigura un tema squisitamente cortese cioè il cavaliere è proprio la barba che dona il cuore alla dama che è quella senza barba contrario sarebbe stato abbastanza sgradevole donna barbuta sempre cornuta dunque ma come dicevo il un tema di amor cortese il tema del cuore donato dal cavaliere alla dama e vi faccio notare che sia il cavaliere sia la dama sono vestiti con eleganza di corte sono all'ultima moda per così dire potrei il cappello a cencio di lui la veletta di lei la veste corta di lui la veste lunga di lei con il giusto cuore sono tutti elementi di moda di corte questi sono vestiti che costano un feudo per capirci cioè sono vestiti oggi sarebbero vestiti di Prada di Armani di Versace sono vestiti dell'alta moda ecco un'altra cosa che vi faccio notare il finto rapporto con la natura cioè questa è una civiltà profondamente urbana no? è una civiltà profondamente di corte cioè di un circolo fatato di un gruppo limitato di persone qualche decina al massimo qualche centinaio che vivevano solo tra loro evidentemente no? ora è chiaro che il loro rapporto con la natura era del tutto artefatto immaginate quel programma demenziale che è nudi e crudi allora se noi evitate perché già la premessa cioè nudi farebbe provocare pensione di infarti allora dice allora no ma dicevo i nudi e crudi è una barzelletta cioè fingere che due persone che in realtà sono ampiamente tecnologizzate fanno la barzelletta di mostrarsi in giro papagno al vento a fare delle avventure in ambienti teoricamente estremi in realtà estremamente controllati ok ci siamo ma quella roba lì che cos'è? è l'estremo portato di un dato patetico che è una delle grandi contraddizioni del nostro tempo cioè noi facciamo benissimo a coltivare sentimenti ecologici facciamo benissimo a dire che si sta rischiando di assassinare il pianeta vero assolutamente vero però dobbiamo anche tener conto di un fatto che la nostra civiltà che ci piaccia o no è urbana grazie a tutti grazie a tutti provano sentiamo pieni ente grazie a tutti grazie a tutti